in studio massimo bonella dunque cosa sta succedendo nel nord italia com'è la situazione in questa parte d'italia in modo particolare nel regione del veneto l'abbiamo chiesto ad andrea zanoni ex europarlamentare consigliere regionale del partito democratico della regione veneto vi ricordo altresì che ci sono notizie allarmanti notizie drammatiche ci provengono dalla lombardia in modo particolare dal bergamasco subito il nostro servizio ascoltiamo un'intervista da andrea zanoni diciamo che la situazione sta evolvendo di ora in ora è una emergenza alla quale nessuno era preparato diciamo che ci sono ancora situazioni di carenza di macchinine quello che sono anche negli ospedali è diventato un prodotto introvabile oggi leggevo di spedizioni che arrivano dalla cina di associazioni locali che ci vengono e anche governative che ci vengono in soccorso diciamo che è difficile anche effettuare i controlli ho visto che ci sono centinaia di controlli nato da parte delle autorità per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente dei Consigli Uniti sulla limitazione dei movimenti io credo che tutti gli scolatori tutti i cittadini debbano essere consapevoli che qui giusto sì che ci siano leggi che vengono rispettate ma soprattutto giusto che ognuno faccia la propria parte perché non c'è legge che tenga se poi le persone non le rispettano bisogna rispettare le leggi fare dei sacrifici e oggi sentivo che ci lasciamo come in guerra e io dico per fortuna non siamo in guerra e nei conti molti di noi sono seduti in un divano in una coltrona dentro le nostre case è sicuramente una situazione di grande limitazione delle proprie libertà però viene fatto attimi bene per evitare che questo contagio si perpaia ancora di più ma soprattutto per evitare tutti gli ospedali d'Italia ballano in sovraccarico notizie terribili oggi arrivano dalla provincia da Bergamo dove addirittura hanno esaudito i posti a disposizione nelle camere diciamo che raccolgono le salme e hanno negli obitori hanno tutti gli obitori ed auriti quindi stanno riempendo le chiese insomma quindi figuriamoci negli ospedali e sovraccarico degli ospedali è una cosa deleteria perché portano ai medici a fare anche delle scelte dramatiche tragiche perché naturalmente i porti di terapia intensiva sono quelli che sono e quindi l'importante è seguire questa norma che serve soprattutto dare una mano a chi da settimane sta lavorando in continuazione con pochissime pause sulle per dormire che sono i nostri medici, i primieri, i operatori sanitari, i denti, l'ambulante e quant'altro. Quindi è responsabilità di ognuno di noi fare la propria parte sapendo che sono sacrifici ma sapendo che non è l'ora delle polemiche ma è l'ora di agire in maniera unitaria e responsabile. Ripendiamo da studio ringrazio Andrea Zanoni ex aeroparlamentare consigliere regionale Partito Democratico della Regione Veneto avete ascoltato dunque questa situazione molto drammatica che ci proviene dalla Lombardia, dal Bergamasco vi ricordo che un'ulteriore e più approfondita intervista con Andrea Zanoni la potrete ascoltare domenica mattina subito dopo le ore 9 dall'emittente interregionale in onde medie Radio Diffusione Europea. È tutto per il momento, grazie per la vostra cortese, attenzione la linea torna nuovamente ai programmi della rete. Grazie a tutti.